Avendo l'urna funeraria del trisavolo proprio davanti alla presa di corrente, collegarci il caricabatterie dello smartphone torna difficile. Come risolvere il problema? Trasferirsi in India e spargere le ceneri nel Gange? Meglio evitare, insorgerebbero troppe questioni etiche. D'altronde si deve solo ricaricare un cellulare comodamente. Riciclare il vecchio caricabatterie con il connettore spezzato, modificandolo in modo tale da poterci adattare un cavo di corrente con relativa spina, ovviamente anch'esso di recupero, potrebbe essere la soluzione che permetterebbe di prendere due piccioni con una fava ed avere la coscienza a posto. Se poi durante la modifica si vede che il circuito del trasformatore è di ottima fattura, allora l'operazione è ancora più sensata, anche perché la tentazione di comprare un caricabatteria ad un euro è sempre forte. Da far notare che il trisavolo è stato sempre un uomo fermo nelle sue posizioni, quindi semplicemente spostare l'urna sarebbe stata una impresa titanica. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Ciao.